Buongiorno, buongiorno! Una chiacchiera svelta, tanto per salutare le amiche e gli amici del mattino, del pomeriggio, della sera, della notte, i nostri gatti che ci tengono svegli, i pensieracci che fanno la loro parte. Ah, che lavoro, che lavoro, che lavoro! Gente che si sveglia dopo otto anni e scopre che in certi luoghi ci sono un po' di agitazioni, gente che si scandalizza, che si preoccupa, ovviamente, certo, la vita è la vita, bisognerebbe ancora riconoscerglielo un valore, ma si dimentica di Odessa, o non l'ha mai saputo, e di 14.000, che cos'è quel numero? A cercarlo. Che non sa che in casa nostra c'è gente che non ha più la casa e se la stava pagando, se l'era già pagata, e aveva attività, che aveva ben imbastito, ben avviato, e sono andate ite, 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 ite. C'è gente che non si accorta di tante cose in casa propria, è bello, per carità, dedicare il cuore di qua e di là, ma di qua. Abbiamo dato un'occhiata intorno casa, abbiamo uno stivale che magari ha dei buchi, delle cuciture, delle voragini, quanta sofferenza, eh? Ci siamo accorti? Oppure perché abbiamo battuto il tacchio e ubbidito va ben così e gli altri tacci loro? Eh, dai, su, forza, cerchiamo di riprenderci, che qua non è che c'è da aver ragione di qui o di lì, di su e di giù, bisogna essere tutti in grado di capire che se c'è la cessura, tesori, non è che siamo bambini piccoli che non ci devono far vedere il cartone animato cruento, la cessura, beh, come si fa a formare uno spirito critico se non si ha modo di comparare e di ragionare, no? Non solo di bersele tutte perché uno, due, tre, quattro, cinque, sei, uno, due, tre, la cicogna dorme in piedi, quattro, cinque, sei, me ne voppe i fatti miei. Era una filastrocca che si cantava ai bambini per insegnare loro a contare, ma se dopo quattro, cinque, sei, cioè se la sette e poi finisce lì, e beh, che comparazione è se dicono un coro, un coro alpino, un coro alpino abbiamo, un coro alpino e non è un comparare, non vuol dire approfondire, accontentarsi e farsi lobotomizzare. Ma mica vi volevo deprimere di prima mattina, ma no, c'è freddo. La mattina è molto fredda, la sera è molto fredda, ieri, durante la pausa pranzo, era molto caldo e è stato bello avere caldo e sopportare il caldo e godersi il caldo coperta di lana. Ah, che meraviglia, che meraviglia. E allora, ieri vi ho letto quelle due cose, no? Ma poi io sono una tonta perché non mi ero accorta. Come tanti, no? Ci accontentiamo della superficie, di quello che ci dicono, anche in buona fede. E ho detto, sì, è nuova! Eh sì, era nuova, perché non c'era prima. Io vado a spulciare, quando vado a prendere le mie fotocopie spulcio e guardo dove è possibile che io mi possa addentrare e non c'era, quindi era nuovo. Eh sì, mi è stata detta una parziale verità, era nuovo, magari la figlia manco sapeva. E invece ho scoperto che questa è la seconda riedizione, quindi di queste cose è già stata presentata in edicola almeno tre volte dal 2020. Poi magari scopriremo anche altro. Io ero anche senza occhiali, quindi poi ho aperto, spacchettato, ho tolto le due copertine farlocche, una e due. Una manca un pezzo, però è rimasta la cosa importante, perché l'ho usata ieri sera, mi serviva per attizzare meglio il fuoco e è andata nella stufa l'altra metà. Però è rimasta la cosa interessante, perché almeno posso comparare il giusto. Allora, i volumi, viene presentato in questo momento, allora la copertina, adesso ce li ho di là, non vi voglio lasciare da soli. Allora, come viene presentata questa cosa? Mi metto lontano, almeno potete vedere. Vedete un po'? Come più maglia, manuale, maglia, bebe, manuale. Un manuale è un manuale. Qui cos'è un manuale? Ecco, sapete un consiglio che vi do? Tenete in casa i dizionari degli anni passati, tipo, fino agli anni Ottanta, cioè, avete un dizionario, quanti anni ha il vostro? Il nostro ultimo, non mi ricordo, abbiamo preso quando Camilla andava al liceo, il nostro ultimo dizionario della lingua italiana. E poi, comparatelo con quello che uscirà a breve e vedrete quanti significati saranno cambiati, quante parole non ci saranno più. Svegeve, sei l'esaspesa, svegeve. Perché se io ripeto ti do uno schiaffo e poi ti dico che ti ho dato una carezza e ti sono rimaste le cinque dita, ma tu puoi anche sorridere, ma che amore, ho dato una carezza. Però in realtà hai il segno delle cinque dita sulla faccia, quindi fai te, cambiare il significato alle cose. E lo fanno, lo fanno. E che tanto è tutto alla luce del sole, ma si è talmente inebettiti che non si legge, non si guarda, non si compara, non si ragiona. Allora, questa cosa che viene presentata con queste due sovracopertine come manuale, maglia manuale, un manuale. In realtà sono due riviste con due collezioni, una improntata ai filati caldive e l'altra ai quelli per i momenti leggeri, leggeri. Allora, la sovracopertina è uguale, corrisponde solo a uno dei due numeri. E quindi, ecco, 67 progetti, quindi ecco, vedete poi le due piccoline dentro. Ma la cosa strana, che continuano a chiamarlo bimestrale comunque, è un manuale, poi in piccolissimo, molto piccolo, molto piccolo, in uno c'è scritto, in una di queste due sovracoperte, che io non sono andata a guardare, che poi appunto, quando ho tolto le due cose qua, sulla copertina, c'è scritto nuova, la vedete qua, no? Nuova, vabbè. E ecco qua, in uno c'è scritto, guardate, bimestrale, che chi l'ha più mai visto? Io non l'ho mai visto, non l'ho mai mai visto. bimestrale vuol dire che ogni due mesi esce, vuol dire che dovrebbero essere presenti sei numeri, se la matematica ancora è quella, che abbiamo imparato negli anni 60, gli elementari poi crescendo, quindi un bimestrale, dividi 12 per 2, fa 6, ce la fa a Moch, senza la calcolatrice? ok, e chi l'ha mai visto? E invece, poi anche le date dentro, tutta una roba strana. Allora, sì, l'ho pagato a 6,90 euro, invece l'ho convinta a 5,90, 6,90 euro, perché poi ho pagato le fotocopie, quindi ho fatto un po' di caos, io, poi 90, 90, posso pure, no, non sono sorda, sono distratta. Ecco qua, quindi, riedizione 20 luglio 2021, il 21 sta per 2021, agosto e settembre. L'altra metà, che le andà ben, che è andata, guardate un po', si vede che mi aveva avuto, il mio angelo custodio, mi ha voluto lasciare l'argomento del mattino. Allora, da questa parte invece, vediamo se mette a fuoco, bimestrale, 25 febbraio 2022, marzo e aprile, marzo è arrivato, quindi l'ho presa, non mi ricordo se era, quando sono andata a prenderla, era già, vabbè, comunque, comunque, eh, non è il modo giusto, perché abbiamo enfatizzato, manuale, beh, ma non è un manuale, non è che c'è una scuola particolare, che vi insegna a calcolare l'età, cioè, un manuale è un punto di riferimento, dove ci sono, e dove ci sono delle schede tecniche, che è di un certo tipo, eh, sono semplicemente due collezioni, che per fortuna prendono tutte e quattro le stagioni, ci danno delle idee sugli abbinamenti di colore, sulle fogge dei capi, e quindi il manichino a corta, manichino a lunga, abbiamo visto scamiciati, pantaloncini, e poi soprattutto cambiano le gambe dei colori, ecco, quello che ci può aiutare, che è una cosa intelligente, quello per carità di Dio, perché, eh, arriva la primavera, fa un freddo becco, eh, non è che ti faccio i calzoncini di cotone, se siamo a dieci gradi, i calzoncini li dovrai portare, ninin di lana, eh, ecco, anche se siamo al primo maggio, anche se siamo al 7 giugno, e poi se siamo sul Pordoi, se siamo a Vigo di Fassa, eh, perché mi è piaciuto, se siamo a Pila, se siamo a Chamois, chi conosce Chamois? Che posto delizioso che è Chamois, Chamois mi ha incantata, io ormai non lo vedo da tantissimi anni, ma Cugnaga invece no, cioè nel senso, poveraccia, c'è niente da dire, una giornata spredita, mi sono bruciata la faccia, eppure gli occhi, eh, sono stata al buio, mi sono dovuta fare pure le iniezioni, e mettere le fitostimoline, le garze fitostimoline in faccia, non vi dico che dolore, che bruciore, che spavento, quando non capivo perché non ci vedessi, dico, ma che è? Com'è buio stamattina? No, perché non ci vedevo proprio, avevo, a parte gli occhi gonfi, quindi ero veramente devastata, mi sono bruciata gli occhi sulla neve, eh, era maggio, ero a Macugnaga, Macugnaga, a volte che ci vado, una volta vado, la prima volta, avevo 19 anni mi pare, è stata la prima volta che ho messo gli sci ai piedi, e, ho bloccato gli impianti, ho bloccato lo schilifo, adesso non so come sono cambiate gli impianti, là mi ricordo, sto schilifo sulla sinistra, poi c'era tutta una pendenza ancora più a sinistra, quindi ero scivolata, non sapevo stare sullo schilifo, quindi mi sedevo, boing, disboing, mi ho fatto la cingomma, per un pariato, perché sono volata per terra, e in diagonale, e ho bloccato, hanno dovuto bloccare gli impianti, e io non mi muovevo da lì, perché non mi sapevo alzare, mi scivolavano via gli sci, e, che ridere, ero nata a fare le cose, avevo già fatto lezione, quella mattina lì, mi avevano anche prenotato la lezione con il maestro, povero maestro, e in quel caso, è lì che mi sono bruciata la faccia, perché ero sempre orientata dalla stessa parte, scusate, e lì, appoggio un attimo, a fare la, attanto ci sta, a fare la scaletta, tatatata, con gli sci, vai su e vai giù, poi a un certo punto, mi si è messo davanti alle punte il maestro, e siamo partiti tutti e due, l'ho portato a valle, ma no, era una licesetta da niente, due scatole, che noia, perché tutti dovevano sciare, io preferivo andare a camminare, sinceramente, poi mi ho capito, che mi piace di più il fondo, che fare lì le code, gli impianti, sali, gli sceni, mi hanno fatto fare una nera, mi hanno fatto fare una nera due volte, ho battuto sui sassi, ho rovinato gli sci, mi sono fatta un male dell'ostriga, perché facevo una cura, mi sbattevo un terra, una pendenza dell'accidente, ma come si fa a scherzare su quelle cose lì, ma non ero in grado, non volevo manco farlo, non è di faccio la sborona, faccio la nera, ma che de che, io stavo tanto bene in piano, in mezzo agli alberi, quel silenzio, quel casotto, la gente che urla, gli impianti, un rumore, ma si può andare sulla neve, per sentire tutto bacano, la puzza della nafta, c'era la nafta, la puzza della nafta lì, e gli impianti, che noia, e vabbè, tanto sciavo sempre da sola, perché gli altri erano capaci, e ti mollano lì, ma è il modo, allora, tanto valeva andare a farsi un giretto, dov'è che ho visto, a Champollouc, a Champollouc, avevo visto un bel percorso, per il fondo, che non era un circuito da cricetti, che anche lì, che senso ha, fare fondo, tutto in un campo, che è un campo, un coso nudo, tutti lì, i cricetti, anche quello no, per carità di Dio, invece a Champollouc, che bello, vi parlo di, vi parlo di, quanti anni ho io, scusami, di 40 anni fa, quando vi parlo, no, più o meno, quanti anni, 20 anni, ne faccio 58, 30 anni fa, va bene, non ci voglio pensare, quanti anni fa, ma è divertente, guardate, la vecchiaia, non è un timore, uno si augura la salute, per carità, ci mancherebbe, e di non vedere cose brutte, ecco, poi, alla fine dico, ma prendimi un po', per piacere, che quello che devo pagare, lo pago in loco, invece che, avere degli sconti in terra, va bene, fammi pagare quello che ho da pagare, e, e basta, che no, è così, perché si vedono cose, e dici, ma cosa, come si può fare, per aiutare l'umanità, a capire, che i cattivi, sono i cattivi, e ci sono sempre i cattivi, i cattivi, sono cattivi, cattivissimi, e vogliono sempre di più, sempre di più, sempre di più, perché i cattivi, sono cattivi, e si spacciano per buoni, e intortano, quelli che ci cascano, con le mani, con i piedi, con la tettura, li intortano bene, e si riportano dalla loro parte, e non capiscono, che si fanno complici, di una cosa brutta, perché, si chiedono tutti, ah, io, che fatica, che fatica, va bene, ma Lorenza, ma che cos'hai questa mattina, eh, che cos'ho, che cos'ho, eh, che, ho un cervello, allora, ho le mani fredde, ecco che cos'ho, e mi sto scaldando, le mani sotto le asciende, mentre parlo con voi, e quindi, parliamo di questa cosa, in questo momento, è andata bene, diciamo che a me, sono piaciuti, i due numeri, però, queste riedizioni, la cosa, la riedizione, dovrebbe essere, un pochino più evidente, no, perché l'onestà, l'onestà non paga, diciamo che l'onestà, spesso fa guadagnare poco, ecco, e, anzi, tutti quei bei medici, che sono andati da fare, a curare le persone, ci hanno guadagnato, un calcio nel sedere, eh, poi parleremo anche, della fiducia, uno come si, ma che cos'è la fiducia, come si conquista, perché la fiducia, è una conquista, eh, non è, come si conquista la fiducia, che cosa vi porta ad avere fiducia, in una persona, in un qualcosa, in un filato, in un, cos'è la fiducia, eh, che cos'è la fiducia, ne parleremo, intanto, mettetevelo nelle orecchie, che poi ne parliamo, perché questa mattina, sotto, a, a, al vocale, non mi dico, non ho fatto caso, se era quello lungo, o quello corto, perché tanto, questo argomento, l'ho un po' trattato, nel vocale, da 15 minuti circa, a quello, da quasi un'ora, ho visto che anche altri, sono rimasti, diciamo, fregati, che sei convinto, di acquistare una rivista, che parla di uncinetto, c'è una sovracopertina, che ti fa vedere cose, e ci sono le cose che è, e poi tu invece, togli la sovracopertina, e ti trovi, tada, una rivista di maglia, e te della maglia, non frega niente, perché ti piace solo l'uncinetto, guarda un po', eh, beh, brutta fregatura, oppure, 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 se sei un appassionato di maglia, fai anche l'uncinetto, vabbè, però, ti interessano, prendi quella bella rivista, bella, non si sa, ancora, ti lascia adentuire le meglio cose, no, sopra ci sono dei gaggi, e quindi certi gomitoli, degli attrezzi che ti fanno comodo, che fanno sempre comodo, perché si rompono, si consumano anche i ferri, perché ti mancano quei numeri, o che ti importa a te, c'è qualcosa che ti interessa, tu prendi quello che ti interessa, no, e poi scopri, togliendo la sovracopertina, che in realtà non parla di maglia, sotto ti trovi una brutta rivista, di uncinetto, cioè brutta, perché sono vetuste le cose, brutto, proprio di pessimo gusto, abbiamo avuto un periodo, adesso non è un periodo rose, del tutto, però abbiamo avuto veramente, per quel che mi riguarda, per il mio gusto, dei periodi nerissimi, che non sono neanche, non mi sono più soffermata, a guardare le riviste di maglia, io che sono stata una storica abbonata a Rackham, ci sono cresciuta con Rackham, a un certo punto l'ho visto proprio, scemar, 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 nella qualità della carta, delle immagini, dei colori, dei servizi, piccolino, leggerino, brutto come il peccato, noi ci si innamorava delle copertine di Rackham, era così bello, andavi, non vedevi l'ora di andare in edicola, è arrivato, e te lo gustavi con calma, quella calma, beh, non era una carta exalusa, ma poi è arrivato un periodo nerissimo, nerissimo, e non l'ho manco più mai guardato, mi sono lasciata intortare, perché c'era una cosa che mi piaceva, ma potevo farne a meno, ma è talmente delusa, che mai più guarda, ma sono passati anni, e io non ho più acquistato, certe riviste, in edicola, a parte Mood, quando lo trovavo, o poi di volte, quando l'ho scoperto, poi non l'ho più trovato, a parte Maglieria Italiana, che non vi dà delle spiegazioni, ma è una bella carrellata, della maglia, nell'alta moda, Maglieria Italiana, è una cosa bella, poi c'è un altro, ce l'ho di sopra, qualcosa ho salvato, anche perché poi assenza di pubblicità, e che ci piace a noi, e quindi quando ho scoperto, che due amici del canale, spero essere i miei amici, amici di Maglio, d'uncinetto, amici della vita, non ci si frequenta, non sappiamo manco che odore abbiamo, non sappiamo neanche se il mio caffè ti piace, se il tuo tè lo bevo, ma io bevo tutto quello che è nell'acqua, quasi, e che sono rimasti delusi e traditi, perché l'esca nascondeva un amo, che ha ferito il palato di chi cercava una cosa, ne ha trovata un'altra, ma dico è, oltretutto gli invertono anche le fregature, stanno come a lettare, e queste sono tecniche, che ci vediamo propinare anche in altri, nella quotidianità, quindi, oh Lorenza, adesso che mattinata che ci fai fare dopo sto vocale, che nottata che ascolti, e vabbè ragazzi, sono fatta così, e quindi niente, è andata bene, perché mi sono piaciute le collezioni, non vedo perché chiamarlo manuale, sono semplicemente due collezioni, che riguardano due stagioni uno, due stagioni l'altra, e i tempi intermedi, tutto lì, ecco, tutto lì, non c'è, un manuale è un'altra cosa, un manuale ti fa vedere, la tecnica per fare quel determinato cappuccio, la tecnica per fare quel determinato cappello, e quell'altro cappello, e quei guantini, gli altri guantini, come si fa, un manuale è un'altra cosa, questa è molto carina, certo che la consiglio, se la trovate, e se vi mancano delle cose per bambini, perché è di gusto contemporaneo, sì, anche se è di tre anni fa, quel bambino lì, ormai sarà, io ho 18 anni, questa è la ventottesima, no, è la quindicesima, riedizione, ma non ve l'hanno detto, vedrete un po', vedremo questa bambina, questa è una bambina, si innamori, comunque sei bella, che ci dirà, ah belli, guardatemi un po', ecco, vabbè, le scopriremo, nel tempo le scopriremo, ah, le scopriremo, le scopriremo di belle, ma soprattutto, tutte quelle brutte, che sono già scoperte, ma ancora, ce le hanno davanti agli occhi, ma mica le vedono, ma figurati te, Bassetti si ombra, Bassetti, Bassetti, mamma mia, vabbè, vabbè, a volte la natura si diverte davvero, anche da più fare nomi e cognomi, uno è molto alto, molto grande, pensate a madre Teresa di Calcutta, piccolina, piccolina, minutina, che ha girato il mondo, senza niente, lei riusciva ad viaggiare, e, che roba, ed era minutina, ma che immensità, e questi che si sentono pure atti, in meglio del paese, Bassetti, va bene, dai, basta, vi lascio qua, mi andrei a scaldare un caffè, devo andare a portare, una busta di abiti, devo andare col carrellino, però, perché non voglio portare, perché ieri mi sono un po' stancata, ormai sono stanco, ho messo a posto pochi quintali di legna, e poi mi sento stanga, ieri la sgargiolina appena finita, schizzavo, tim, 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 mi ha messo a posto quella legna, mi ha messo un pezzo grosso, che lo lascerò per il caminetto, solo che con quel po' po' di pezzo, ci scaldavo la stufa, per almeno, e quindi casa, per almeno quasi una giornata, nel caminetto, in un'ora quello se lo magna, ecco, io li faccio a casa, non ho chiesto legna da caminetto, gli ho chiesto, legna per la mia stufetta, o non ti va mai bene, sì che mi va bene, ma quando non mi va bene, lo devo dire, eh, eh sì, quando poi, a volte proprio ometto, lascio perdere, perché sennò ci sarebbe da, e bisognerebbe farlo, è che a volte si discute, questa cosa che lasciamo correre, invece no, bisogna, bisogna confrontarsi, manifestare un pensiero diverso, dar modo anche all'altro, di ragionare anche sul proprio pensiero, dell'altrui, è così che si fa, confrontare i pensieri, confrontare dati, nozioni, informazioni, tutto quello che non danno di là, ci sono posti dove ne danno, e ne danno anche bene, e non per niente c'è la cessura, secondo voi, ma la cessura, ma ve la mettono perché vi vogliono far dormire in pace? Eh no, perché devono diluire, allungare ancora sto brodo, finché non gli farà comodo, che allora arriva lo sciopo, un velo serio, perché loro dove rifugiarsi lo sanno, ce l'hanno i rifugi che vi credete, quindi pensiamo anche a casa nostra, cosa accade a casa nostra, chi sono i buoni, chi sono i cattivi, vi ricordate i film sugli indiani, eh? come li hanno fatti brutti, greggi, cattivi, erano proprio cattivi, intanto questi già coltivavano in una maniera meravigliosa, che fu cuoca, ha amato assai, questi, loro, non producevano scarti, che inquinavano, avevano un grande rispetto dell'ambiente dove vivevano, degli animali, mai uccisi animali in più, rispetto alle necessità, e questo coprirsi con le loro pelli, non era un affronto, non era sfrontatezza, non erano sboronate, ma erano proprio anche, come si può dire, manifestazioni di rispetto e riconoscenza, nei confronti degli animali, era necessità, quindi, vegani, sì, non ce l'ho, perché c'è una sorella in casa, non è quello, è che, siamo su questo mondo, in un certo modo, vabbè, comunque, loro ne hanno fatti passare, sapete come hanno attaccato, il vaiolo, agli indiani, e a tutti coloro, che hanno incontrato, sulla strada, per farli fuori, buttando loro addosso, coperte infettate, guardate quanto siamo, noi, loro, i cattivi, abbiamo capito, che non, gli indiani, erano la casa propria, che ha, la conquista del West, vabbè, lì, c'era già, quella gente era lì, non avrà messo i picchetti, non avrà fatto, avrà fatto delle pisciatine, intorno al territorio, come fanno cani e gatti, ma, c'erano già, loro lì, ci stavano, non è che arrivo io, ton, questa è tutta roba mia, bandiera, del turututù, eh, anche no, cucurucucu, paloma, ci stavano già, ci stavano gli inca, ci stavano gli appas, ci stava, tono seduto, che poi si è alzato, e ha dato qualche calcio nel sedere, giustamente, non erano cattivi, eh, no, non lo so, non sarà stato anche qualcuno cattivo, per carità, e già se, se dovevano difendere il territorio, per la sopravvivenza, insomma, quelli che arrivavano più a nord, per mangiare quello che stava lassù, quelli che scendevano per andare a raccogliere quello che stava giù, già ce l'avevano le loro beghe, no, gli abbiamo portato un carico da nevante, eh, e quindi abbiamo capito poi che in realtà, i cattivi, non erano loro, ma quelli che sono sbarcati, buona parte di quelli che sono sbarcati, tanti ignoranti, che, vabbè, comunque, va bene, vi è piaciuto il boccaletto del mattino, eh, bene, allora, vado a cambiarmi, vado a portare questo sacco di indumenti, e porto la minu un attimo al parco, non ho voglia di uscire, perché ho freddo, devo accendere la soffa, questa notte l'ho lasciata spegne, e devo pulire i tubi, ho paura adesso che la notte mi faccia fumo, e aspetto le ragasse, perché, se me la sento, ma che ho due gomiti, ho due curve, da soli, è un problema, metti quello, ti devi mettere l'altro pezzo di tubo, ti casca quell'altro, da sola è un problema, davvero, l'ho fatta una volta, teppi non farò mai più, quindi dovrei chiedere una mano, ma a chi faccio insozzare, col mio, con la mia fuligine, e quindi, do delle botte al tubo, eh, perché la carta sporca ai tubi, la carta, però mi serve la carta, e allora, la carta sporca la brucio, e anche quella che non era sporca, ma quella lì, tendo di solito a non bruciarla, perché fa veramente una cenere brutta, ma era lì al volo, perché ero nervosa, no, non ero nervosa, però mi stizzisco a questa cosa qua, ci rimaniamo male, quando, quando, la nostra fiducia viene così, come si può dire, offesa, tradita, credevo fosse amore, e invece ero un caretto, non l'ho mai capita quella cosa lì, non l'ho mai visto quel film, devo approfondire, magari su youtube si trova, è che io non guardo niente, non guardo di rado anche i film, mi è capitato quando, quando è che ho visto il film, non mi ricordo più, vabbè, comunque, quando ho avuto un problema col cellulare, ecco quando è stato, devo controllare Instagram, voglio salutare un po' di persone, vedere che belle cose si fa in giro, ma poi, mi vola il tempo, non lo so, mi vola il tempo, vola, 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 colomba bianca, vola, ieri le ceneri, ci arriveremo a sta Pasqua, ma, ma. grazie a tutti